La prima classe senza professori in cui insegna l'intelligenza artificiale al posto di maestri. Allora, è un college di Londra che a mio parere sta usando questa informazione per far parlare di sé. È una boarding school, quindi una di quelle scuole dove bisogna praticamente andare là, come i ragazzi che passano il tempo là tutto il tempo, come i college. Sono scuole private, peraltro. Ma io non solo, secondo me, è molto tirata l'informazione, ma ammesso anche, poniamo che davvero un domani l'intelligenza artificiale sostituirà i professori in insegnanti. Ecco, questo, se l'intelligenza artificiale non si evolverà, quindi tutto potrebbe succedere, è un grandissimo problema. Perché? È perché l'intelligenza artificiale ha delle allucinazioni pazzesche. Perché l'intelligenza artificiale si basa sulle informazioni che ha raccolto online. Dentro i meccanismi dell'intelligenza artificiale le risposte che dà è pieno di fake news, è pieno di falsi, è pieno di informazioni sbagliate. Allora, vogliamo insegnare ai nostri ragazzi le informazioni sbagliate? Non solo, cioè già voglio dire, già oggi quello che imparano, lo fanno anche, pur avendo maestri veri, teachers in carne e ossa, lo fanno con l'aiuto dell'intelligenza artificiale che dà informazioni false. Attenzione, non dà sempre informazioni false, ma c'è un grande rischio. L'intelligenza artificiale è un ottimo aiutante, ma di qualcuno che sa fare quel lavoro, ok? Non può sostituire chi lo sa fare, quindi secondo me non può sostituire un maestro, non può sostituire un professore, non può sostituire qualsiasi esperto di un mestiere, soprattutto se intellettuale, perché può fare errori madornali. Per cui, bella questa idea, verrà ad altre scuole per far parlare di loro, ma in realtà, dal punto di vista comunicazione, straordinaria idea. Dal punto di vista fattuale, ho una grande stupidaggine.